C'è un'idea di mettere insieme un gruppo di persone straordinarie per vedere se potevamo diventare qualcosa di più. Così quando sarebbe servito avremmo combattuto battaglie. Per loro impossibili. Col tempo scoprirete cosa vuol dire perdere. Essere profondamente nel giusto, ma nonostante ciò fallire. Lo temi. Lo eviti. Il destino arriva comunque. Evacuate la città. Impegnate tutte le difese. E procurate a quest'uomo uno scudo. Quando tieni in equilibrio l'universo non pensi al divertimento. Ma questo... riesce a farmi sorridere. Ma voi chi diavolo siete?